Buonasera. È la croce di Cristo che accompagna chi soffre e anche noi, stretti a questa croce, oggi vogliamo nella nostra attraversata incontrare alcune persone che aiutano chi soffre anche soffrendo loro stesse, ma soprattutto vogliamo subito dedicarci a come l'esempio di San Pio abbracciato alla croce di Cristo ha portato l'amore e ha portato novità che anche oggi vi potremo presentare. Grazie a un primo collegamento con Casa Sollievo della Sofferenza, dove dovrebbe essere già pronta per noi, Maria Antonia Di Maggio. A te Maria Antonia. Grazie Maria Pia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Siamo collegati dall'ingresso principale di Casa Sollievo della Sofferenza, come tu hai ricordato, luogo simbolo soprattutto nella lotta di questi tempi, ovvero nella lotta contro questa terribile pandemia. Ricordiamo che Casa Sollievo è inserita nella rete degli ospedali Covid da inizio emergenza, continua a combattere anche in questa terza ondata. Accanto a me il direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza, Michele Giuliani. Buon pomeriggio, bentrovato. Buon pomeriggio. Ricordavamo l'impegno continuo in questa battaglia che purtroppo sta registrando dei numeri importanti anche in termini di contagi e di ricoveri in questa terza ondata. Sicuramente stiamo vivendo un periodo molto complicato. Indubbiamente il primo periodo, quello di un anno fa, è stato quello più difficile da affrontare perché eravamo di fronte a un virus che non conoscevamo, non avevamo gli strumenti adatti per combatterlo. Oggi invece, che ne sappiamo molto di più, abbiamo vaccinato l'intera popolazione ospedaliera e conosciamo terapie molto più efficaci, però combattiamo con dei numeri che non sono assolutamente paragonabili a quelli della prima ondata. Purtroppo la Puglia registra numeri da zona rossa già da diverse settimane, oltre quelle stabilite da DPCM. L'intera rete ospedaliera è in sofferenza, tanti ospedali, tanti presi di Covid sono in saturazione, quindi Casa Solieva ancora una volta sta dando una mano all'intera popolazione regionale, a tutti gli ammalati di Covid che in questo momento non trovano posto in altri ospedali della Puglia. Ricordiamo che cosa significa essere ospedale Covid, perché stiamo parlando di un ospedale che è stato totalmente ripensato. Sì, questa è stata una delle battaglie più difficili da combattere e da vincere, cioè ripensare completamente l'organizzazione dell'ospedale. Qui siamo all'ingresso dell'ospedale, ma proprio sopra di noi inizia e si estende tutta l'area Covid che per necessità è dovuta essere sempre più ampia. Oltre all'area medica, all'area clinica abbiamo dovuto attrezzare anche un'intera rianimazione, ma anche ulteriori posti di terapia intensiva, perché c'è stato un momento in cui i posti che avevamo messo a disposizione non erano assolutamente sufficienti a ospitare tutti gli ammalati Covid. Quindi abbiamo dovuto ripensare i percorsi, abbiamo dovuto ripensare agli spazi, abbiamo dovuto ripensare anche al modo di lavorare, perché ricordo sempre che tra Covid tutte le patologie non si sono arrestate e quindi l'altra parte dell'ospedale deve continuare a svolgere la propria attività ordinaria e fronteggiare quell'altra emergenza che è il ritardo nelle cure per le altre patologie. Facevamo riferimento, lei faceva riferimento all'inizio della campagna di vaccinazione che qui in casa a Sollievo è terminata. Sì, siamo stati anche in questa occasione efficaci ed efficienti, perché già da un po' abbiamo praticamente, ci sono ancora pochissimi operatori da vaccinare, ma che non hanno potuto vaccinarsi per contestuali altre patologie. Ma in circa un mese abbiamo vaccinato tutti, con ritmi anche di 300 vaccinazioni al giorno. Questo è sicuramente stato uno scudo per i nostri operatori, ma anche motivo di maggiore sicurezza per i pazienti. Però ricordo che siamo al 14esimo mese di emergenza e gli operatori avevano bisogno anche di maggiore conforto. Tanti messaggi ci sono arrivati di sostegno, ma anche piccoli gesti, che danno ancora fiducia ai nostri operatori che non si sentono soli all'interno dell'ospedale a combattere questa battaglia dalle forze impari. Ancora qualche settimana fa abbiamo ricevuto il premio dalla Newsweek, una prestigiosa rivista americana, come miglior ospedale del Sud, nonostante le tante difficoltà che abbiamo dovuto affrontare nel corso dell'ultimo anno. Ma è di due giorni fa il Cardinale Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, con una accorata lettera, ha ringraziato tutti gli operatori di Casa Sollievo, ha infonde coraggio agli stessi operatori e ci porta anche i saluti del Santo Padre. Questi sono quei motivi, quegli sproni che giorno per giorno poi ci danno una motivazione in più per affrontare questa difficile battaglia. C'è anche una notizia che diamo, che è stata già data, molto curiosa, che però ci racconta anche di come la vita comunque va avanti ed è la notizia della nascita di otto gemelli. c'è stato nell'arco di due settimane. Ancora 30 secondi per lei per commentare questa notizia. Ma ogni nuovo nato è il segno che la vita sta andando avanti nonostante le difficoltà del momento. Quindi i parti gemellari sono un doppio segnale, un rafforzamento di questo segnale di vita, di questo bisogno di ritrovata normalità. Allora, direttore, con la speranza che questa emergenza davvero possa finire il più presto possibile, ascoltiamo la saluto e la ringraziamo per essere stato con noi in questo collegamento e ascoltiamo una frase proprio di Sampio da Pietrelcina sulla missione del medico. Voi avete la missione di curare il malato. Ma se al letto del malato non portate l'amore, non credo che i farmaci servano molto. Io ho provato questo quando il mio medico curandomi mi recava prima di tutto una parola di conforto. L'amore non può fare a meno della parola. Voi come potreste esprimerlo se non con parole che sollevino spiritualmente il malato? Portate Dio ai malati. Varrà più di qualsiasi altra cura. E avete sentito naturalmente la frase dalla bellissima voce di Nando Gazzolo riferita proprio ai medici. Questi medici per i quali non abbiamo parole. Grazie, credo che nasca più ormai dai fatti, dalla preghiera, anche certo dai riconoscimenti ufficiali. Vedo che Maria Antonia sei già pronta grazie di queste splendide testimonianze. Non è un caso che i medici e gli infermieri italiani siano candidati al Nobel per la pace di quest'anno. Perché? Perché l'Italia ha dovuto affrontare in Occidente per prima questa terribile emergenza. Ci ha raggiunto nel frattempo il dottor Pasquale Baira, primario di anestesia e rianimazione Covid. Buon pomeriggio. Buonasera a tutti gli spettatori. Io vorrei commentare con lei proprio leggo la motivazione della candidatura del personale sanitario italiano, che è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria nella quale ha ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra, combattendo in trincea per salvare vite e spesso perdendo la loro. Questo è quello che si legge nella motivazione espressa da Oslo. lei, primario, in un reparto che è stato davvero al centro di questa trincea. Guardi, io questa cosa la dico oramai da tanto tempo. Noi non siamo sicuramente degli eroi. Non lo siamo mai stati. Siamo solo persone che sono al loro posto, fanno il loro dovere e naturalmente mantengono quelle che sono le direttive anche del nostro istituto, che ci ha pregato naturalmente di intervenire in maniera decisa in questa pandemia. Lo abbiamo fatto. Ci siamo messi a disposizione non solo della Regione, ma direi della nazione intera. È chiaro che fa piacere ricevere una candidatura di questo tipo perché, insomma, voglio dire, è stato insignito Amnesty International, il Bureau per i diritti umani, Medici senza frontiera, la Croce Rossa internazionale. Per cui, insomma, voglio dire, essere invitati e candidati per un premio così importante non può che farci piacere. Però è logico che, insomma, noi facciamo i medici, facciamo gli infermieri, abbiamo l'idea di cosa significa operare in campo sanitario, soprattutto in queste situazioni così emergenti. Lei, tra l'altro, Dottor Baira, ha vissuto doppiamente in prima persona tutto ciò perché il Covid ha colpito anche lei. Beh, sì, vabbè, io sono stato uno dei operatori sanitari fortunati perché, logicamente, l'ho vissuto con qualche difficoltà questa situazione. Il mio pensiero va, naturalmente, a tutti i colleghi che invece hanno avuto un'esperienza molto peggiore della mia e, naturalmente, nei loro confronti esprimo il mio ricordo. Prima facevamo riferimento anche alla campagna di vaccinazione e è importante anche dare un messaggio, proprio un invito, affinché ci sia la massima adesione proprio alla campagna. Beh, assolutamente sì. Tenga presente che non a caso sia il Presidente Draghi sia il Ministro Speranza hanno praticamente ultimamente anche richiamato non solo gli operatori sanitari alla vaccinazione ma tutta la popolazione. Vaccinarsi è fondamentale intanto perché si è comunque protetti contro il virus e anche si riesce ad essere protetti contro le varianti e, naturalmente, questo significa nell'eventualità la vaccinazione non dovesse bastare a dare un'immunità totale significa anche prenderla in maniera molto meno evidente per cui, insomma, non avere tutte le complicanze che invece, purtroppo, stiamo vedendo con questa terza variante che forse è in assoluto la più terribile. Tenga presente la prima variante è stata praticamente accolpito una popolazione di persone un po' più anziane e in un numero ridotto. Poi c'è stata una seconda variante che ha creato qualche problemino in più ma con la terza abbiamo avuto persone molto giovani con quadri complessi. Tenga presente che questo virus non attacca solo i polmoni oramai è acclarato. Ormai abbiamo anche capito che appunto è una malattia davvero insidiosa e quindi è importantissimo continuare al rispetto delle regole. Noi la ringraziamo dottor Vaira per essere stato con noi e 65 anni fa proprio qui fu inaugurata l'opera di San Pio allora riviviamo insieme anche quel momento. Il 5 maggio 1956 a nove anni dall'inizio dei lavori si svolse la cerimonia inaugurale di Casa Sollievo della Sofferenza. Alla messa preseduta da Padre Pio partecipò una folla di 15.000 persone. La chiesa fu rappresentata dall'arcivescovo di Bologna il cardinale Giacomo Lercaro che tagliò il nastro insieme al fondatore. Ma Padre Benigno da Sant'Ilario milanese lesse anche un telegramma giunto dalla Santa Sede con la benedizione apostolica del Papa Pio XII. Per lo Stato italiano sono presenti il Presidente del Senato Cesare Merzagora e il Ministro delle Poste Giovanni Braschi. Signori e fratelli in Cristo la causa sollieva della sofferenza è al completo. Ringrazio i Benefettori da ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la Providenza ha aiutato da voi ha creato nella presenza. Ammiratela e benediteli insieme a me il Signore Dio e siete deposti nella terra un seme che li descalderà con i seraggi da mura. Non ci private il vostro aiuto collaborate a questa postulata di sollievo della sofferenza umana. Riprendiamo la linea qui da casa sollievo della sofferenza ci ha intanto raggiunto la dottoressa Francesca Greco psicologa qui nell'ospedale di San Pio ci tenevamo molto ad avere la sua testimonianza qui perché questa pandemia ci ha purtroppo messo davanti ad una davvero prova molto dura ovvero non solo quella della malattia e della morte ma soprattutto quella del dover affrontare tutto ciò in solitudine sia per gli ammalati ricoverati qui sia per i familiari che da casa non possono avere neanche il sollievo di portare il loro conforto allora quanto ha pesato e quanto è importante anche gestire dottoressa questo aspetto buonasera e grazie sicuramente stiamo vivendo un periodo molto difficile probabilmente è uno dei più complessi la difficoltà più grande che spesso si trova in questo reparto è la solitudine purtroppo la solitudine spesso è una delle cause di maggiore sofferenza delle persone per tale motivo in questo contesto è fondamentale costruire un setting dove l'umanità sia protagonista c'è uno strumento che è quello delle videochiamate al quale si è fatto molto ricorso e che è stato certamente prezioso sì esatto un valido aiuto che diciamo abbiamo utilizzato è stato l'utilizzo delle videochiamate in questo la tecnologia è stato uno strumento sicuramente prezioso sia per quanto riguarda il potere ascoltare comprendere e conoscere ancora meglio i pazienti da un punto di vista umano oltre che da un punto di vista medico ma sicuramente è stato anche molto importante per i loro parenti nonché i loro caregiver noi ringraziamo la dottoressa Greco per questa testimonianza grazie davvero buon lavoro e davvero complimenti per tutto l'impegno che ci mettete e intanto chiudiamo con l'ultima testimonianza di questo collegamento ovvero suor Cristina Pievani madre superiore delle suore apostole del sacro cuore di Gesù le suore volute proprio da San Pio a essere presenti qui in questo ospedale perché è importante anche la preghiera portare a letto dell'ammalato anche il conforto benvenuta sor Cristina grazie a tutti tra l'altro lei è di Bergamo quindi sicuramente avrà anche diciamo vissuto in maniera doppiamente come dire coinvolta tutto quello che è successo e che sta succedendo beh sì le ristoranze che arrivavano da casa erano abbastanza pesanti perché veramente si avvertiva la paura ma anche proprio l'angoscia lo sconcerto mio padre mi parlava di un silenzio irreale che avvolgeva tutto il paese normalmente abituato ad essere abbastanza trafficato comunque animato dai bambini che giocavano eccetera dice qui neanche più i cani abbagliano si sentono solo le ambulanze i giornali che dilatavano le pagine di necrologi in maniera abnorme e la paura la paura e l'angoscia e che c'è ancora adesso io mi ricordo sono andata a casa quest'estate quando la cosa sembrava calma eppure la gente ancora ma c'era ancora la gente con le mascherine c'era ancora la gente a distanza più che di un metro era stata troppa la sua venta signor Cristina voi siete una presenza preziosa qui in ospedale per la vostra vicinanza agli ammalati allora io vorrei chiudere con abbiamo pochissimi secondi 30 secondi però con un messaggio anche di speranza per vivere anche questa santa pasqua beh oggi è il venerdì santo e mentre partecipavo all'eturgia della croce dicevo il momento della morte di Gesù sembra l'esplosione del male la vittoria del male e invece è proprio il momento in cui trionfa il bene perché è il momento in cui a noi si aprono le porte del paradiso e allora anche in questo dolore in questo male noi abbiamo visto nascere tanti gesti di dedizione e di amore crediamoci veramente crediamo che il male non ci può sconfiggere e che abbiamo è proprio se ci stiamo dentro e ci stiamo dentro con la vicinanza con la tenerezza cercando di dare il meglio di noi stessi anche questo male perché è un male alla fine ci farà più migliori e ci darà la possibilità di avere un futuro migliore grazie mille suor Cristina grazie a tutto il personale di casa sollievo della sofferenza il nostro augurio il nostro abbraccio virtuale a tutte le persone ricoverate alle loro famiglie Maria Pia a te la linea grazie Maria Antonia davvero grazie per questo preziosissimo collegamento intanto noi proprio perché abbiamo sentito suor Cristina dire crediamoci possiamo immediatamente accompagnarvi al prossimo passaggio in questa puntata così particolare visto che è venerdì santo perché perché è un venerdì santo che quest'anno cade il 2 di aprile e dal 2005 2 aprile significa ricordare il passaggio dalla terra al cielo di colui per il quale è stata coniata la frase che è diventato un modo di dire santo subito Giovanni Paolo II Giovanni Paolo II ha conosciuto e ha visto da vicino anche l'opera di Padre Pio come sapete ma noi oggi proprio per rispetto al suo insegnamento gli abbiamo riservato uno spazio non dilagante come sarebbe invece bello e come sicuramente in tante occasioni abbiamo fatto perché oggi è appunto il giorno della passione di Gesù ma abbiamo lo spazio per un servizio con cui Leonardo Fania ci aiuta a ricordare meglio l'insegnamento di questo grande pontefice di questo grande uomo a proposito della sofferenza non abbiate paura aprite anzi spalancate le porte a Cristo una frase rimasta nella storia pronunciata da Giovanni Paolo II il 22 ottobre 1978 durante la messa ad inizio del pontificato parole che suonano di profezia pronunciate da un uomo sconosciuto che pochi giorni prima rompendo il secolare protocollo che non prevedeva discorsi dopo la Bemus Papam si era presentato urbi e torbi come l'uomo venuto da lontano 27 anni di pontificato e di risultati impensabili dalla caduta del muro di Berlino nel 1989 al viaggio nella Cuba di Fidel Castro nel 1998 fino al grande giubileo del 2000 e al passaggio dal secondo al terzo millennio cristiano la grandezza morale pastorale e politica di Papa Uetiva che la Chiesa ha proclamato santo nel 2014 è il motivo per cui da più parti credenti e non hanno chiesto che egli sia definito magno a pochi giorni dalla morte scrive Andrea Riccardi storico e fondatore della comunità di Sant'Egidio nella biografia intitolata Giovanni Paolo II Santo uomo del 900 scrive Riccardi Giovanni Paolo II non ha smesso di interrogarsi sul mondo che stava sorgendo e aggiunge Papa Uetiva ha avuto un effetto di liberazione dalle paure dai condizionamenti dal senso di decadenza ha rilanciato il suo popolo in un nuovo scenario quello del ventunesimo secolo anche per il papato la sua è stata una guida d'eccezione molto personale e carismatica per Riccardi la personalità di Uetiva fuori dall'ordinario ha lasciato un'impronta storica di grande rilievo ha supplito alle mancanze delle istituzioni e delle persone forse non è un modello ripetibile nei pontificati successivi Benedetto XVI e Francesco in maniera diversa lo mostrano eppure Giovanni Paolo II resta un grande personaggio della storia per la Chiesa Cattolica e i suoi fedeli è un santo viene spontaneo affiancare il tema della sofferenza a Giovanni Paolo II un tema che ha dominato l'arco di tutto il suo lungo pontificato dall'attentato nel 1981 ai ripetuti ricoveri fino all'inesorabile avanzata del Parkinson una sorella la sofferenza che gli ha tenuto compagnia per tutta la vita la morte infatti era entrata da subito nel cuore di quel bambino polacco che a soli nove anni perse l'amatissima mamma da lì fu un calvario di sofferenza prima con la scomparsa del fratello medico Edmund e poi con quella del padre rimasto solo Waitila decise di entrare in seminario ricevendo clandestinamente l'ordinazione fino all'elezione al soglio di Pietro la sofferenza seguita all'attentato è racchiusa in un documento prezioso e spesso trascurato tra i tanti del lungo pontificato la lettera apostolica salvifici doloris scritta nel 1984 tre anni dopo l'attentato del 13 maggio dell'81 molto significativo l'incipit di questo documento completo nella mia carne dice l'apostolo Paolo spiegando il valore salvifico della sofferenza quello che manca ai patimenti di Cristo in favore del suo corpo che è la Chiesa e aggiunge queste parole sembrano trovarsi al termine del lungo cammino che si snoda attraverso la sofferenza inserita nella storia dell'uomo ed illuminata dalla parola di Dio esse hanno quasi il valore di una definitiva scoperta che viene accompagnata dalla gioia per questo l'apostolo scrive perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi la gioia proviene dalla scoperta del senso della sofferenza ed una tale scoperta anche se vi partecipa in modo personalissimo Paolo di Tarso che scrive queste parole è al tempo stesso valida per gli altri l'apostolo comunica la propria scoperta e ne gioisce a motivo di tutti coloro che essa può aiutare così come aiuto lui a penetrare il senso salvifico della sofferenza davvero una lezione indimenticabile quella di Papa Vojtiwa di Carol il Grande un personaggio chiave della storia anche perché è toccato a lui scavallare non solo un secolo ma un millennio il 2000 il grande giubileo un anno che ha naturalmente significato anche mille mille milioni di piccoli eventi di piccole storie una delle quali si intreccia con gli ospiti che vado subito a salutare come vi dicevo oggi e anche eccoli intanto sono già pronti prima ancora di introdurvi vi saluto sono i coniugi Lella e Pinuccio Fazio ben trovati buonasera bene e sento che va tutto bene per quel che riguarda le mie domande quindi posso tranquillamente ricordare questo viaggio che voi avete fatto nel 2000 qui a San Giovanni Rotondo anche se poi dobbiamo entrare in una storia di dolore ho voluto cominciare dal 2000 perché era appunto un anno eccezionalmente importante per tutta la Chiesa Cattolica grazie alla scelta di Giovanni Paolo II che abbiamo appena ricordato che cosa avete fatto in quel 2000 qui a San Giovanni Rotondo era settembre e c'era con voi uno dei vostri figli o tutti e quattro no buonasera no in quel mese di settembre eravamo io Pinuccio con tutti e quattro i figli e con il resto della famiglia andavamo ogni anno perché Michele amava Padre Pio e in più amava San Michele San Michele Arcangelo di cui portava il nome certo voleva andare assolutamente quindi Michele è stato per l'ultima volta nel 2000 qui da Padre Pio con voi e con il fratello e con le due sorelle e l'anno dopo purtroppo non sarebbe arrivato al mese di settembre perché il 12 luglio quindi esattamente il 12 luglio faranno 20 anni è morto in una maniera assurda atroce è una di quelle storie di cui sotto la croce forse si riesce a parlare vuole raccontare sì beh quell'anno del 2001 Michele era gioioso perché in quel periodo il papà Pinuccio stava a bar per le ferie mancava solo due o tre giorni che poi andava via e voleva stare insieme quella serata mangiare una pizza perché ci riunivamo tutta a tavola nel parlare di tutto e di più e dare abbracce e baci carezze perché il papà doveva andare quella sera Michele le sette meno un quarto quando è uscito dal lavoro si vestisse il lavoro tutto profumato papà mamma ci vediamo più tardi vado un po' sul lungomare prendo un po' di aria con gli amici e lì stava anche il suo fratello più grande Nicola con il suo gruppo di amici perché voi abitate voi abitate in un posto molto bello di Bari soprattutto adesso ormai è anche meno pericoloso di allora e quindi magari Michele non poteva immaginare ma soprattutto non poteva resistere a fare la vita di strada come tutti i ragazzi infatti la città di Bari diciamo dove abito io è Bari vecchia è il centro storico di Bari io la amo la giuro è stupenda come faccio a darmi da questo posto stupendo sono nata e non posso andare via oggi come oggi con me sta ancora Michele non posso andare via di qua io l'adoro e gli sto dicendo di quella serata lo bacio al papà verso le sette meno un quarto e se mi andò verso le undici meno venti meno un quarto sentimmo il telefono di casa e andò la ragazzina di tredici anni Rachile e disse alla sorellina via mamma e papà che sto arrivando e come Pinuccio regalò il suo compleanno di quindici anni un telefonino pagato a rate con dieci miliardi al mese e fu una gioia immensa per Michele ma soprattutto telefonava dal telefono non suonava il cito telefonava dal telefono per dire che sto arrivando per far capire alla nostra criminalità che anch'io ho il telefono col sudore di papà pure io lo posso portare il telefono voi avete le cose molto facili come tutte firmate scappi firmate telefonino soldi in quantità ma anche mio padre mi era dato il telefono con il suo sudore di lavoro ecco orgoglioso di quel telefonino che aveva il papà certo un attimo carissima Lella che voglio fare una piccola domanda a Pinuccio intanto che naturalmente è un resta con noi non non lasciare la postazione che abbiamo ancora da raccontarci come si mantiene questo bel sorriso vent'anni dopo che è morto un figlio adolescente ecco volevo dire Pinuccio ma un momento di allarme c'era stato mai prima di quel giorno di quel 12 luglio ma prima di quel 12 luglio buonasera a tutti prima di quel 12 luglio Barivecchia non si poteva camminare perché erano i vicoli erano bui erano spenti si sparava da una parte dall'altra quindi avevate paura avevamo tutti paura diciamo ci dovevamo chiudere in casa in casa non importa se si soffriva di caldo ma si doveva stare in casa perché si aveva paura perché comandava la criminalità organizzata loro comandavano il quartiere oggi a distanza di anni Maria Pia non c'è più quella criminalità organizzata oggi a distanza di anni c'è la rinascita in questo quartiere oggi questo quartiere è vivibile libero di parlare di sorridere libero di guardarci negli occhi e grazie alla magistratura i vicoli sono accesi ricordiamo che grazie anche alla magistratura si cerca anche di fare giustizia e adesso torno a Lella perché questa non è la sede ovviamente per approfondire tutti questi profili una mamma che naturalmente non può dire qual è il segreto però può magari accompagnare qualche altra mamma che sta soffrendo come? come? avere tanta fede ecco se ti sposti un po' verso sinistra ti vediamo meglio chiedo a Michele di spostarsi a destra ecco grazie ho detto di avere tanta fede tanta credere al Signore perché io quando fu la guatto con la tragedia non ero più io eppure sono una donna molto cattolica nata dalla mia famiglia che mi ha dato questa educazione e in quel momento mi è crollato tutto perché vedere mio figlio lì per terra non è stato facile perché io dicevo sempre ho sempre fatto l'omertosa e me ne vergogno ve lo dico famiglie non fate come ha fatto Lella che ha visto e ha girato la faccia da un'altra parte non lo fate perché anche Lella diceva ma non toccherà a me non toccherà se faccio l'omertosa non toccherà non è vero quella sera è toccata Lella e me ne vergogno perché dopo Lella e Penuccio collaborano con le forze dell'ordine con la magistratura perché il dolore è grande è molto grande ma noi facciamo questo anche a parte i nostri figli ma a tutti i figli dell'Italia a tutti i figli del mondo perché non vogliamo che accada alle loro famiglie quello che ha detto a noi assolutamente perché sì è morto Michele ma poi c'è il dopo un percorso di vita dopo che è molto difficile è realmente che è una cruce molto grande molto grande non è stato facile il dopo carissima Lella noi abbiamo anche visto l'immagine della prima comunione di questo ragazzo naturalmente anche immagini gioiose che grazie a voi abbiamo potuto mostrare in cui c'è Nicola in cui c'è la sorella Rachele la sorella Antonella ecco una famiglia che comunque chissà quanto già si è diramata ed è bello che sia così ma intanto per te l'ultima domanda hai sentito qualche volta Michele parlarti nel cuore nella mente nel sogno sì sì tante di quelle volte l'ho visto come oggi l'ho visto piccolino ragazzino però la cosa stupenda bella che lui sempre mi dice anche anche da vivo adesso che non c'è più sono sempre le stesse parole mamma vai avanti mamma sto bene mamma non ti preoccupare ecco questa vedi la parola sempre mamma qualsiasi parola che diceva metteva sempre mamma 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 è questo che dico io lui sta bene perché io poi l'ho visto anzi no mia figlia Rachele che aveva ancora 13 anni nel dormiveglia l'ha visto il fratello vestito dal lavoro con la camicia bianca i pantaloni neri erano le 5 di mattina lui l'ha visto di entrare in casa e gli diceva Michele qua stai tu e lui diceva sì Rachele ma io sono sempre qua e in quell'attimo Rachele domandava Michele hai visto niente voleva ricordare quella sera del 12 luglio hai visto niente talmente che lo ripeteva e lui diceva Rachele io non ho visto niente ho solo visto una luce immensa che il signore mi stava aspettando di a mamma che sto bene e dili ciò che lei ha in mente per i ragazzi lo deve fare quel percorso di vita carissimi Lella e Pinuccio ci avete già promesso di venire a San Giovanni Rotondo appena sarà possibile intanto appena sarà possibile noi Maria Pia noi veniremo lì perché dobbiamo fare questo dono che ci ha lasciato Michele a noi ma non solo questo dico a tutti i telecontratori che ci stanno osservando Maria Pia noi avevamo il signore ha mandato un angelo sulla terra per 16 anni e non lo sapevamo noi avevamo un angelo in casa e non ce ne siamo a qua i santi sono così sono tra noi grazie davvero per questa testimonianza una Pasqua di Ressurrezione vi auguriamo particolarmente di gioia e di unità familiare e di amore e voglio anche ricordarvi che riguardo all'aspetto dell'impegno sociale che questa famiglia ha voluto intraprendere dopo la morte di Michele c'è un documentario che trovate su YouTube la pagina la conoscete di Padre Pio TV Fatti Umani Associazione Michele Fazio e ringrazio di questo tutti possiamo ringraziare proprio la collega Maria Antonia che prima abbiamo avuto in collegamento adesso cerchiamo di voltare pagina in un modo particolarmente adatto alla giornata di oggi viaggio nel silenzio era la mattina del 20 dello scorso mese in coro dopo la celebrazione della Santa Messa allorché veni sorpreso dal riposo simile ad un dolce sonno tutti i sensi interni ed esterni nonché le stesse facoltà dell'anima si trovarono in una quiete indescrivibile in tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina tutto questo avvenne in un baleno e mentre tutto questo si andava operando mi vidi dinanzi un misterioso personaggio simile a quello visto la sera del 5 agosto che differenziava in questo solamente che aveva le mani e i piedi e il costato che grondava sangue la sua vista mi atterrisce ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo mi sentivo morire e sarei morto se il signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore il quale me lo sentivo sbalzare dal petto la vista del personaggio si ritira e io mi avvidi che mani piedi e costato erano traforati e grondavano sangue immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni la ferita del cuore gitta assiduamente del sangue specie dal giovedì a sera sino al sabato padre mio io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima temo di morire di sanguato se il signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore e col ritirare da me questa operazione mi farà questa grazia Gesù che è tanto buono abbracciando la croce e anche con un salto che non è mai tale aggiungendo padre Pio a tutto quello che ci dice il ventunissimo secolo e lo facciamo con il nostro direttore Stefano Campanella che è anche biografo di padre Pio grazie di averci raggiunto qui in studio Stefano grazie a te Maria Pia di questo invito in un giorno particolare prima di dare una novità ai nostri telespettatori dal punto di vista proprio delle tue fatiche e dei tuoi libri voglio visto che oggi comunque Giovanni Paolo II lo vogliamo ancora un pochino ricordare chiederti tu hai scritto il papa e il frate tu hai conosciuto papa Voitiva tu senti che sono personaggi veramente affini o più si va avanti nel ventunesimo secolo e più le loro strade potremmo dire di santi si dividono assolutamente più si va avanti più si uniscono e si scopre sempre di più che entrambi hanno avuto anche nella sofferenza questa unione non solo fra loro ma questa unione fra loro è cementata ancora di più dalla loro unione a Cristo perché la loro sofferenza ha avuto un senso una spiegazione e anche una legittimazione che oggi più di ieri si rafforza proprio perché hanno saputo unire questa loro sofferenza alla sofferenza di Cristo perché l'hanno offerta per la salvezza dell'umanità in primo piano dunque la pandemia di Padre Pio discepolo della dolorata noi abbiamo avuto il piacere proprio con te nella nostra rubrica nelle pieghe della storia di anticiparne i contenuti da diversi mesi ormai nelle librerie quali feedback hai ricevuto dopo questo libro? Mi diventa difficile riferirli perché purtroppo per me sono stati feedback positivi nel senso che poi imbarazza parlare di complimenti che la gente fa certamente ecco forse la cosa che potrei dire è l'interesse l'interesse a scoprire come Padre Pio abbia vissuto un periodo molto simile a quello che stiamo vivendo noi e attraverso questa scoperta quasi ci si prova ad essere suoi imitatori cioè a cercare di cogliere da Padre Pio quella rassegnazione al volere di Dio che non è accettazione passiva supina quasi che noi dobbiamo subire quello che ci arriva dall'alto anche quando è negativo ma è consapevolezza che è quello che Dio fa per noi anche quando ci sembra negativo anche quando ci sembra opprimente comunque ha un senso ed è per il nostro bene che noi oggi non possiamo comprendere ecco che cos'è l'abbandono dei santi alla volontà di Dio è la consapevolezza che Dio comprende il nostro bene più di quanto non lo comprendiamo noi la pandemia di Padre Pio ci fa ritornare indietro di più di un secolo per chi non l'avesse ancora compreso anche se poi nel libro è scritto in maniera talmente densa e anche giornalisticamente esaustiva che si fa presto appunto a riprenderlo vogliamo comunque riinnestare quello che è avvenuto a Padre Pio cioè questa sua malattia la spagnola con quello che sta accadendo adesso dobbiamo ricostruire un clima esattamente simile al nostro nella San Giovanni Rotondo del 1918 scrive una delle figlie spirituali di Padre Pio si aveva così paura del contagio che nelle famiglie si temeva di passarsi un bicchiere d'acqua perché ciascuno in famiglia era un potenziale untore allora si moriva molto più di adesso anche perché le cure mediche erano molto più ridotte e in un contesto meridionale e queste avevano una fruibilità ancora minore e questa ragione diciamo fa capire come l'uomo era tenuto a distanza anche nel contesto familiare e proprio adesso invece stiamo vedendo un'immagine in cui Padre Pio viene avvicinato parecchio ed è anche un po' più grande rispetto alle foto precedenti ricordiamo che essendo del 1887 quando si è ammalato aveva 31 anni 31 anni e questo è il conventino di San Giovanni Rotondo e 31 anni che poi è lo stesso la stessa età in cui ha ricevuto le stimmate e tra l'altro ecco la stimmatizzazione permanente di Padre Pio quella che è stata anche prima ricordata si innesta proprio in una pausa della malattia perché lui in realtà si è ammalato il 3 settembre del 1918 poi la malattia gli ha dato un po' di tregua e probabilmente guarito o pensava di essere guarito si è esposto troppo presto al contatto con i fedeli alle fatiche del suo ministero e poi ha avuto quella che in gergo all'epoca si chiamava la ricaduta per cui è stato di nuovo male da fine settembre e ha portato le conseguenze di questa spagnola fino alla metà di dicembre e quindi Padre Pio ha subito sulla propria pelle la malattia ha incoraggiato le figlie spirituali a vivere questo periodo e a mettersi sotto la protezione della Madonna ecco poi l'elemento mariano del libro sostenendo con una forza di fede enorme soprattutto per quanto riguarda un caso di una sorella di una figlia spirituale che era prossima al parto che invece era in fin di vita a causa della spagnola Padre Pio disse alla sorella che stava bene che perorava la causa di questa ammalata quant'anche la vedessi ispirare devi credere che guarirà e adesso intanto voglio già perché siamo quasi addirittura d'arrivo chiamare la copertina in inglese è lo stesso libro la fotografia è diversa e tra un attimo la vedremo The Pandemic of Padre Pio Disciple of Our Lady of Sorrow eccolo qua cioè discepolo di Nostra Signora dei Dolori letteralmente quando hai saputo cioè nelle ultime ore praticamente che questo veniva pubblicato in lingua inglese hai pensato anche alla situazione diversa della pandemia tra gli inglesi e noi l'ho pensata in realtà quando è stata fatta la proposta di poterlo tradurre gli Stati Uniti non erano così diciamo avvantaggiati rispetto a noi italiani nella riduzione dei casi perché loro ovviamente si stanno vaccinando con molta più velocità rispetto a noi ma all'epoca in cui è stata presa questa decisione gli Stati Uniti non erano ancora usciti dalla fase critica della pandemia ma anche adesso che loro stanno certamente meglio di noi possono respirare dal punto di vista anche dei rapporti sociali certamente riflettere su quelle che sono state ferite ancora fresche ferite di lutti subiti feriti di malattie affrontate riflettere su questo riflettere sul senso che questa malattia può avere può aiutare anche gli americani perché questo è stato tradotto questo testo in un inglese per gli americani più destinato a loro esatto può aiutarli a capire il senso di questa sofferenza perché nulla avviene per caso certamente la pandemia non è un castigo come qualcuno magari ha potuto affermare ma è certamente comunque un'occasione di riflessione che dobbiamo cogliere per cambiare vita e per fare in modo che di fronte alla morte terrena che abbiamo temuto non non ci costringiamo invece ad una morte eterna di cui magari non ci accorgiamo ma verso la quale stefano ti ringrazio di questa anticipazione ma dobbiamo anche commentare un'altra notizia perché oggi avviene un evento che comunque è assolutamente anomalo in cinque davanti a cinque santuari italiani tra i quali proprio il santuario di San Giovanni Rotondo Assisi Cascia Loreto Pompei e qui San Giovanni Rotondo sono accomunati dal fatto che alle venti ci sarà una manifestazione indetta dalla Confcommercio con tanti imprenditori del settore che veramente sono allo stremo qualcosa di inimmaginabile dovuto alla pandemia appunto un venerdì santo certamente di dolore e di preghiera ma anche di solidarietà a questo punto ti pare? Assolutamente sì e sono convinto che se Padre Pio fosse ancora in vita esprimerebbe lui in prima persona la solidarietà a questi operatori dell'economia che in fondo hanno cercato e cercano di guadagnarsi da vivere per sé e per le famiglie proprie dei dipendenti in maniera onesta e che in questo momento stanno soffrendo per il loro futuro e per il futuro dei loro dipendenti per cui davvero a loro va tutta la nostra solidarietà nella speranza che da questa manifestazione nasca un'attenzione maggiore per i problemi di questo comparto grazie di essere stato con noi in questo ultimo passaggio di un programma che oggi è stato anomalo sia nella durata che nella sigla che adesso riscopriremo proprio per ricordare che domani è giornata di silenzio e saremo in onda al consueto orario alle 16.30 con Leonardo Fania grazie a tutti voi grazie a tutti 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 grazie a tutti